Sembra giunta al capolino l'avventura di Matteo Ardemagna al Frosinone. In due anni sono stati più i bassi che gli altri, basti pensare alle 13 presenze senza alcuna rete segnata che per un giocatore con il suo curriculum è abbastanza indicativo del fatto che comunque non abbia trovato la giusta intesa, il giusto feeling con l'ambiente Frosinate. La trattativa con l'Avellino sembra in stato avanzato con il giocatore che certamente vorrà rimettersi in gioco dopo due anni in cui ha giocato davvero poco. Al momento il contatto tra Ardemagna e l'Avellino sarebbe più di una suggestione. Al calciatore la piazza sarebbe gradita, un ritorno di fiamma che potrebbe dare all'attaccante un'occasione di riscatto interessante dopo una stagione insordina con un ostacolo economico. L'unico ostacolo relativo alla trattativa di Ardemagna è l'ingaggio, l'alto ingaggio percepito dal calciatore. Immagino che sia prevista una quota di partecipazione da parte del Frosinone per venire incontro all'Avellino.